Sono molto orgogliosa di presentare questa serata di danza appunto, ovviamente voglio ritenziare le murate per averci ascoltato e per il supporto. Good evening and welcome. I'm Gianna Matteini, the director of Wade, artistic director of Wade. I'm very proud and honored to present this good evening and I want to thank the Murate Art District for their support. Wade lavora all'intersezione tra l'arte e la giustizia sociale, sostiene le voci e espressioni delle donne e offre numerosi punti di ingresso nell'arte e attivismo attraverso programmi educativi e festival curati negli Stati Uniti e in Europa. Wade works at the intersection between dance and art and social justice, supports the voices and artistic expression of women and offers many points of entry into the conversation about social justice and the arts through programs that are educated and festival curati negli Stati Uniti e in Europa. La compagnia è orgogliosa di fungere da ponte artistico tra continenti, culture, lingue e espressioni di danza. Stasera ballano artisti dalla Francia, Italia, Svizzera, Regno Unito, Germania, Stati Uniti, Italia e Singapore. Diretti da Vangelin, artista butto riconosciuta a livello internazionale, una delle rappresentanti importanti della stirpe femminile del butto. The company is very proud of serving as a bridge, an artistic bridge between continents, cultures, languages and dance expressions. Tonight you will see dancers from France, Italy, Switzerland, UK, Germany, United States, Canada and Singapore. La prima cosa che vedrete sta all'estratto del lavoro che si intitola Slowest Wave, il risultato di una collaborazione tra Vangelin e un gruppo di neuroscienziati e un team di neuroscienziati americani che stanno studiando l'impatto del butto sull'attività delle onde cerebrali. So you will see, the first thing you will see is an excerpt from a larger work titled The Slowest Wave, Il secondo pezzo che vedrete rappresenta la restituzione di un workshop di cinque giorni chiamato Densa Italy, prodotto da Wade e ospitato dalla Max Valley Academy. Grazie per l'ospito. The second piece represents the restitution of a workshop, a five day workshop, which is called Densa Italy, which is produced by Wade and is held at the Max Valley Academy. Vi invito a Connected Week con Wade e scoprire nostri programmi e nostri artisti. I invite you to connect with Wade and learn about our programs and about our arts. So enjoy! Aplausos 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 . a tutti. 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 . a tutti. a tutti. . a tutti. . . a tutti. a tutti. .